Perché l'esorcista è ancora così spaventoso? Mia mamma me lo fece vedere la prima volta quando avevo solo dieci anni. Quella notte non ho dormito. E fidatevi, ne ho visti di film horror, da quelli più vecchi a quelli più recenti. E posso dirvi con certezza che l'esorcista è il film più inquietante e spaventoso di tutti i tempi. E il libro da cui prende spunto è ancora più pauroso. Tra l'altro, quando il film uscì al cinema nel 73, ci furono per davvero episodi di svenimenti e nausea fuori dalle sale. E pare che alcuni cinema distribuissero delle buste fatte apposta per il vomito degli spettatori. Ma quali sono gli ingredienti che rendono così terrificante l'esorcista? Una colonna sonora apparentemente innocua ma ripetitiva, che ti rimane in testa per sempre. Un sacco di cattolicesimo. D'altronde le persone molto religiose hanno difficoltà con questo film e prendono l'argomento possessione molto sul serio. Una bambina innocente che gioca con una tavola per le sedute spiritiche. Altra cosa che fa molta paura nell'immaginario collettivo. Un sacerdote gesuita che si porta dietro una lunga lista di sensi di colpa. Un orribile demone che si definisce il diavolo. Un altro prete gesuita che ha combattuto lo stesso demone diversi anni prima. La stessa bambina innocente che viene posseduta da questo pazuzu che parla con varie voci demoniache, che vomita, che pronuncia parole indicibili, che si violenta col crocifisso, che strisce all'indietro giù per le scale, che gira la testa di 360 gradi, che levita sul letto e che per salvarsi prende la vita di entrambi i preti. Insomma, non c'è niente di divertente nell'esorcista. Avete presente i film di Freddy Krueger a Halloween o Venerdì 13? La cosa che avevano in comune era una certa quantità di umorismo. Ci sono adolescenti che fanno sesso, che vengono massacrati, ma nell'esorcista no, non c'è niente che ti far ridere. A parte le scene del vomito e della possessione, ma solo quando te lo rivedi. E il motivo per cui è così terrificante è l'aspetto religioso. D'altronde ci sono stati parecchi casi documentati di possessione. E questa fu indubbiamente la prima storia in cui emergono tutti questi elementi al cinema. Si dice che la maggior parte delle persone possedute fossero molto religiose e che siano state possedute dal demone proprio per mettere alla prova la loro fede. In questo film il demone perseguita un'anima innocente e la tortura quasi fino a morte, nella speranza di sconfiggere il suo acerimo nemico, il bene. Il bello di questo film è che ha pochissimi effetti speciali e si basa su una certa quantità di scetticismo e sulla speranza che la religione possa avere la meglio sul male in vista del finale. E anche quando il regista ti induce a pensare che possano essere solo i sacerdoti a salvare la ragazzina, non ne sei più così convinto. Un altro motivo per cui il film è così spaventoso è la cura dei dettagli del registra William Friedkin, venuto a mancare proprio in questi giorni. Tra l'altro, nella scena in cui si vede la camera da letto della bambina diventare fredda come il ghiaccio, si vede il vapore uscire dalla bocca dei protagonisti quando parlano. Ebbene, per quella scena la stanza venne trasformata in un vero e proprio congelatore, senza alcun ausilio degli effetti speciali. Altra cosa molto inquietante è sentire uscire certe parole dalla bocca di una ragazzina di 12 anni. Il regista ha raccontato che per dare l'effetto della voce demoniaca quando la bimba viene posseduta, venne chiamata una donna che fumava sbagliati pacchetti di sigarette ogni giorno e che beveva litri di alcol. Insomma, secondo voi l'esorcista è il film più spaventoso di tutti i tempi? Fatemelo sapere nei commenti, ditemi anche quando l'avete visto, se l'avete visto la prima volta e quali sono le sensazioni che vi ha provocato. anche a rivederlo oggi e a distanza di tutti questi anni. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciac e Azione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti e curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video.